World Productions e il team italiano K.it hanno confermato poche ore fa il rilascio di una primo demo gratuita di The Town of Light in versione console. Disponibile sia per PlayStation 4 che per Xbox One, la demo è stata rilasciata con l'intento di sensibilizzare l'utenza circa il problema delle malattie mentali. Ancora molto attuale anche ai giorni nostri, abbiamo avuto un forte impatto dai giocatori che hanno deciso di seguire René nella sua avventura. Cercando di trasmettere gli effetti psicologici e psichici delle persone affette da patologie, all'interno di un manicomio, Si è deciso di offrire la possibilità di far provare una porzione del gioco per far capire il problema delle malattie mentali. The Town of Light, basato su ampie ricerche ed ispirato a fatti realmente accaduti, permetterà di giocare dal punto di vista di René, una ragazzina di 16 anni che soffre di una malattia mentale. La ragazza vuole scoprire la verità che si nasconde nel suo passato esplorando uno dei luoghi in cui ha passato la maggior parte della sua giovinezza. Grazie 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 Grazie